Torna questa sera il campionato di Lega Pro con Teramo e L'Aquila impegnate nel primo turno infrasettimanale della stagione. Area di derby al Gaetano Bonolis di Piano Daccio dove arriva l'ambizioso Ancona di Cornacchini che ha iniziato però il campionato in maniera zoppicante. I ragazzi di Vincenzo Vivarini cercano conferme dopo la bella vittoria di Forlì. Davanti ai propri tifosi il diavolo venderà cara la pelle anche per conquistare quel successo casalingo che manca dal 30 marzo scorso quando i biancorossi sconfissero seccamente per 3-0 la Vigor Lamezia. I marchigiani che hanno iniziato la stagione senza entusiasmare troveranno un Teramo carico e determinato. Il trainer biancorosso dovrebbe riconfermare gli undici che hanno violato il comunale romagnolo. Davanti al portiere Serraiocco aggiranno Scipioni, Diachite, Perrotta e Speranza. A centrocampo spazio a Cenciarelli, Fiore, Di Paolo, Antonio e Lulli con Donna Rumma e Lapadula di Punta. Terra Moncona che avrà inizio alle 20.30 sarà diretta dal signor Ranaldi di Tivoli. Gara sulla carta ostica per l'Aquila di Pagliari. I Rosso Blu ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale renderanno visita al Ponte Dera che con il Pisa condivide il primo posto in classifica nel Girone B. In terra toscana Corapi e compagni saranno chiamati ad una prova di carattere contro un avversario di rango. Il trainer Rosso Blu dovrà fare a meno di Giordano Maccarone che è stato squalificato dal giudice sportivo. In pole position per sostituirlo sarà Marco Pomante. A centrocampo non ci sarà invece Del Pinto con Zappacosta in pole position per giocare nella zona nevralgica del campo. In avanti conferma per il trio Pacilli-Ceccarelli-Perna. All'ettore Mannucci dirigerà Baldicchi di Città di Castello. Fischio d'inizio previsto per le ore 20.45. Grazie a tutti.